Amici e amici di Rossini TV, benvenuti in studio. Oggi siamo con un ospite straordinario che ci è venuto a trovare, il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto a trovarci qua, a portarci l'area di Cantiano, l'area dei cavalli del Catria a cui siamo tanto affezionati, ma non solo quella. Naturalmente i telespettatori di Rossini TV sanno che seguiamo con particolare attenzione tutte le vicende di Cantiano, anche quelle più complicate che hanno accompagnato gli ultimi anni. Adesso come sta andando? Diciamo che ormai il Paese è saldamente in piedi, ha deciso in modo chiaro questo meccanismo di ripartenza, di continuità. È chiaro che tante cose sono state fatte, ma tanto ancora rimane da fare. A chi ci ha creduto, a chi non ha permesso che due ore di pioggia pregiudicassero il futuro del Paese, ora gli va restituito quello che ci ha dato in termini di impegno, di risorse economiche e quindi continueremo a chiedere e pretendere quello che credo sia giusto e legittimo che i cittadini e le imprese abbiano. Lo dico anche personalmente, abbiamo trepidato tutti, sono stati giorni difficili anche a distanza e soprattutto abbiamo trepidato tutti per il dopo, perché si intuiva questo pericolo. Si intuiva sia in linea generale sia dalle parole che uscivano accorate dagli appelli, perché il pericolo era quello che le due ore fossero poche e che venissero considerate qualcosa di isolato e che finisse lì. Invece poi è servito, è servito tanto continuare a spingere, a perdurare la causa e a dare e ottenere dei risultati. Questo si è percepito molto forte, una spinta forte da parte sia dell'amministrazione ma anche da parte di tutti i cittadini che non sono stati lì a piangere. Esatto Paolo, questo è quello che è accaduto, l'hai descritto benissimo, quella rete di solidarietà che ci è stata vicina ha fatto la differenza, quindi nei primissimi momenti si è giocato il futuro dei Cantiano. Quindi quella vicinanza e quel supporto morale e materiale, anche in termini proprio di pale alla mano, ma anche di donazioni, quindi sostegno a orientare il Paese verso la ripartenza ha fatto la differenza. Ti do un dato, avevamo 60 attività di impresa compromesse, ad oggi ne sono ripartite 58 e le altre due sono di prossima apertura, quindi torneremo col 100% delle attività di impresa riaperte. Tra l'altro chi è riaperto, ha riaperto meglio di prima, con locali rinnovati, commercialmente anche più propositivi, non abbiamo perso una residenza, quindi avevamo 212 abitazioni compromesse, 140 prime abitazioni, quindi tutti hanno rimesso mano al portafoglio, hanno acceduto al credito per poter rientrare nelle proprie abitazioni e garantire la continuità a Cantiano e Cantianesi. Però ecco, a chi ci ha messo del suo, ora anche il pubblico credo che debba palesarsi, quindi debba restituire e quindi ripagare degli sforzi fatti cittadini e di impresa, mettendo celermente a terra i ristori e soprattutto dandoci la possibilità di mettere in sicurezza il Paese, perché questa è la mia più grande preoccupazione. Oggi Cantiano è lo stesso di un anno e mezzo fa, quindi oggi se succedesse quel che è successo saremo nelle stesse identiche situazioni, forse anche peggio e se una volta ce l'abbiamo fatta la seconda volta non potremmo farci. Allora, da una parte incrociamo le dita e dall'altra lavoriamo anche in quella direzione e continuiamo a seguire e a seguirvi. E siamo qua proprio per uno dei punti chiave e dei punti cardine in qualche modo che hanno dimostrato questa ripresa. Cantiano Fieracavalli, siamo in prossimità dell'edizione primaverile, questa novità che vedrà tutta la zona di Cantiano, in particolare la Badia e tutta la zona circostante, coinvolta in questa grandissima manifestazione che è Cantiano Fieracavalli, 4-5 maggio, appuntamenti che sono stati già lanciati col giusto anticipo perché voi vi rivolgete a un pubblico molto vasto, non solo quello degli appassionati perché la vostra fiera è una fiera diversa. Esatto Paolo, come ben dicevi i grandi eventi hanno anche dimostrato la voglia di guardare avanti, non li abbiamo mai interrotti neanche nei momenti più difficili. L'anno scorso, quindi a qualche mese dall'alluvione abbiamo fatto sia l'edizione autunnale di Fieracavalli sia l'altro evento nostro identitario che è la turba a primavera e quindi quest'anno continuiamo chiaramente, non solo continuiamo, rilanciamo perché nonostante lo scetticismo iniziale questa è la seconda edizione di Cantiano Fieracavalli edizione primavera perché non solo abbiamo raddoppiato le domeniche di ottobre ma abbiamo voluto proprio destagionalizzare l'evento sfruttandone quello che è il suo valore aggiunto perché l'unicità di questa grande manifestazione è quella di svolgersi in un contesto ambientale di alta qualità. Non siamo dentro un padiglione fieristico, non siamo fiera Veracavalli, nel senso che i cavalli qui vengono visti in simbiosi con la natura, nel loro luogo naturale, alle pendici del Monte Catria in un contesto che attrae sia agli appassionati di settore ma che apre al grande pubblico, alle famiglie, quindi a tutto quel mondo di fruibilità dell'ambiente rispettoso, tant'è che a fianco del cavallo abbiamo proposto anche un festival del turismo sostenibile in cui il cavallo, il trekking e il bike diventano i tre asset principali di fruibilità rispettosa del nostro territorio, su cui investire e su cui creare ricchezza e ricadute concrete, economiche e reali sul nostro indotto. Quindi ecco un evento che credo rappresenti bene quella che è l'identità del nostro territorio e che soprattutto ormai vanta anche un riconoscimento nazionale. Abbiamo per la prima volta una legge regionale di valorizzazione del cavallo del Catria e, notizia di pochi giorni fa, abbiamo il patrocinio del Ministero, del MASAF, quindi un riconoscimento, il più alto riconoscimento istituzionale che credo dia il giusto credito, il giusto merito a questi anni di valorizzazione di questo evento. Un po' perché sono uno di quelli che ha seguito negli ultimi anni, un po' perché mentre ascolto mi vengono mille domande e devo stare attento a non perdermi, però quello che vorrei fare è fare un piccolo, non riassunto, però così una sottolineatura per i nostri telespettatori, magari i meno attenti e i più distratti. Allora ricordiamo che di solito una fiera di questo genere qua ha la caratteristica di svolgersi rivolgendosi agli addetti al settore e si svolge in quartieri fieristici, si svolge dove si svolgono tutte le fiere, come potrebbe essere la fiera del mobile, come potrebbero essere tante altre fiere tematiche. E questa già è una distinzione molto forte per Cantiano Fieracavalli. Un altro dettaglio è questo, che generalmente Cantiano Fieracavalli da 45 anni si svolgeva in autunno, cioè nel momento in cui poi i cavalli scendono teoricamente dalle montagne, poi scopriremo che le stagioni sono cambiate anche lì, e vengono poi ricoverati in valle. Invece Cantiano cosa ha fatto da un paio d'anni? Ha rilanciato con un'edizione primaverile. È stata una grandissima sfida, forte del fatto che l'edizione autunnale aveva un tale successo e aveva sconfinato anche come target, se mi permetti di dire in questi termini, da diventare una vera e propria festa. E allora perché non farne anche una festa di primavera? Questo è stato un po' tutto l'iter ed è un po' il ragionamento sul quale ci stiamo muovendo e ragionando. E allora questa seconda edizione della versione primaverile di Cantiano Fieracavalli, che programma ha? Perché a questo punto, dopo aver creato tutta questa aspettativa, bisognerà che diciamo qualcosa ai nostri telespettatori. Sì, ecco, crescendo il livello deve crescere per forza il programma. Quindi ecco, noi avremo due giornate intense e alla pari, quindi sia il sabato che la domenica. Ci saranno chiaramente spettacoli equestri di alto livello, sia la mattina del sabato, pomeriggio che la domenica, provenienti da Fiera Verona Cavalli. Quindi proprio ci saranno degli spettacoli da vedere. Quindi il cavallo non solo in mostra, ma in esibizione proprio in veste di spettacolo equestre. Avremo tutto un'esposizione della nostra tipicità, unicità, che è il cavallo del Catria, che sarà in esposizione per tutte le due giornate. Ci saranno rassegne, vendite di animali, ci saranno i caroselli del cavallo del Catria, la storia e l'evoluzione dello stesso, caroselli che vengono da Fiera Verona Cavalli, più tutte le gare per gli addetti ai lavori, oltre 40 binomi della Federazione della Fita e Trek nazionale, che si esibiranno e garaggeranno nelle due giornate. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto equestre. Abbiamo affiancato, come dicevo poc'anzi, un festival del turismo sostenibile, quindi una serie di attività che riguardano anche escursioni, quindi trekking, noleggio bike, possibilità di prenotazione, di servizi aggiuntivi, collaterali all'evento stesso, più un contenitore che offre il massimo della ristorazione cantianese di tutto il territorio. Oltre 30 stand di tipicità locale, quindi dalle amarine, il pane di chiaserna, la birra del Catra, i nostri salumi, i nostri prodotti tipici. Quindi ecco, credo che sia un contenitore da gustare in pieno, dalla mattina alla sera, soprattutto per le famiglie, per i più piccoli, in cui si può ritornare a quella dimensione naturale di contatto tra uomo, natura e animale. Quindi ritornare a quella serenità, quindi sottrarsi da questa quotidianità sempre più ripetitiva e frenetica in cui viviamo e tornarci a riprendere un po' di quella serenità che la natura, che l'uomo nel cavallo, nel corso della storia, ecco, hanno costruito e ne hanno beneficiato. Che lo dica il sindaco è quasi scontato, ma che lo dico io potrebbe anche essere ancora più convincente, perché io non sono comunque famoso per essere uomo di natura, non è che sono un tracker, vado in giro, eccetera, ma mi sono veramente lasciato stregare da Cantiano Fiera Cavalli da un paio d'anni ed è diventato un appuntamento a cui io personalmente tengo e per quel poco di credibilità che posso avere nei confronti dei telespettatori mi spendo volentieri, perché vi posso garantire che sono delle giornate straordinarie nelle quali si dimentica tutto quello che magari un po' ci affatica, tutto quello che ci toglie alle volte la serenità. Si sta bene, già solo arrivando, già solo vedendo questa stesa di cavalli, perché poi sono tantissimi cavalli che girano. A proposito, la razza dei cavalli del Catria, che è stato specificato essere razza a rischio di estinzione, ma in realtà poi abbiamo sentito bene che tutto sta procedendo nella direzione giusta. Esatto, proprio questi momenti di valorizzazione ne hanno attirato l'attenzione a livello nazionale con un'associazione di riferimento che è la Neare Rai, cioè un'associazione che tutela e razze in estunzione. Dicevo della legge regionale di valorizzazione del cavallo che individua proprio a Cantiano e nel centro Ippico Labbadia, il luogo dove avviene la manifestazione, il centro di valorizzazione quindi che ne garantisce la continuità di razza e di impiego e quindi oggi il cavallo sta ricrescendo in numeri e un cavallo che cresce significa che si porta dietro attività allevatoriali, significa che si porta dietro le scuole di equitazione e quindi si crea quell'indotto economico reale che poi ricade sulla quotidianità, quindi il cavallo non è solo un fattore di promozione, è un elemento attorno al quale creare economia reale, dal settore primario, quello dell'allevamento, fino al settore turistico, quindi il terziario di promozione e di servizi. Quindi siamo veramente contenti di poter essere coloro i quali garantiscono la continuità di questa razza, che è unica Paolo, è l'unica razza equina, regionale, autoctona e il fatto che sia Cantiano ci pone in quell'unicità che altri territori non hanno. Noi abbiamo visto a ottobre come in un contesto in cui si parla di tartufo ovunque e Cantiano si pone con qualcosa che è totalmente diverso e quindi pesca e si rivolge a un target che ha dei numeri esponenziali. Se tu pensi che nelle due domeniche di ottobre a Cantiano sono entrati in fiera 15.000 presenze, Cantiano conta 2.000 abitanti, capirete l'impatto di un evento del genere ed anche lo sforzo purtroppo logistico e organizzativo di andare da un grande evento a un altro evento per un comune piccolo come Cantiano in una situazione comunque complessa che ancora permane dopo soprattutto l'alluvione dello scorso settembre. Neanche ad esserci messi d'accordo mi porti verso una delle ultime domande che è questa. In realtà questo sforzo organizzativo coinvolge tutta la comunità, tra l'altro c'è stata la necessità anche di vincere qualche resistenza perché all'inizio anche quest'idea di raddoppiare non tutti erano convinti, adesso invece bene o male la forza dei numeri ha convinto tutti, però è uno sforzo organizzativo. È un po' un modo, quasi mi piace pensare, di scandire la vita della comunità sulla vita dei cavalli, quasi seguire i loro ritmi, anche se poi mi dicevi prima, ma lo ripetiamo anche alle telecamere, che i ritmi dei cavalli una volta erano scanditi dal fatto che nevicava, adesso nevica un po' meno. Però ecco, mi piace questa analogia, la comunità cantianese e dei dintorni, perché poi lo sforzo immagino che non sia limitato proprio al perimetro del comune, che tiene il ritmo dei cavalli, che si muovono, salgono e scendono e di conseguenza ci sono questi due momenti di festa, oltre, non dimentichiamo mai la turba, che è un altro momento. Beh, insomma, è efficace questa sua ricostruzione, perché poi, ecco, la nostra programmazione segue quello che è l'evolversi naturale, no, che è quello della natura, quindi è il cambiamento ordinario, naturale degli eventi all'interno della programmazione annuale. Poi è vero che le stagioni non sono più quelle di una volta, nel senso che ottobre e maggio storicamente coincidevano con il periodo di salita, maggio e discesa dei cavalli dal monte, perché poi da ottobre a marzo solitamente faceva la neve, ecco, poi ormai le stagioni si sono allungate, però ecco, prevedere due momenti così importanti di promozione del territorio in periodi, tra virgolette, morti, perché comunque l'autunno e la primavera rispetto al Natale e il periodo estivo sono quei periodi un po' più deboli e, così facendo, noi riusciamo a garantire una promozione a 360 gradi tutto l'anno sul paese, perché sfruttiamo la coda di questi eventi, aggiungendoci la turba e quindi riusciamo a garantire una visibilità e una promozione e quindi che si parli di Cantiano tutto l'anno e non è scontato, perché Cantiano è un piccolo paese che riesce comunque a mettere in piedi eventi da migliaia di presenze, quindi che hanno un volano promozionale ben oltre i nostri confini. Cantiano viene da Fiera Verona Cavalli, ora Cantiano Fiera Cavalli ha il patrocino del Ministero, saremo in conferenza stampa il prossimo 17 di aprile alla Camera dei Deputati, quindi ecco, insomma, il lavoro, oggi credo che lo sforzo fatto in questi anni stia dando i suoi risultati, risultati che si traducono poi in un'economia reale per i nostri territori, perché non si vive solo di manifattura, ma c'è tutto un settore legato al primario, quindi l'allevamento e il terziario, la ricettività, la ristorazione, i prodotti tipici che reggono ora la gran parte dell'economia del nostro territorio. Ed è per questo che un'amministrazione ha deciso di spendere e di investire, non spendere, investire danaro anche per promuovere e creare dei meccanismi di ricaduta diretta sui nostri operatori. Tutto questo lavoro fatto e tutto questo lavoro, diciamo, tutto questo impegno investito arriva a giugno a conclusione con la conclusione del mandato. Forse questo è il momento giusto per spiegare perché il sindaco di Cantiano ha deciso di ripresentarsi. Sì Paolo, lo ammetto non è stata una decisione semplice ed è stata anche sofferta, perché ecco senza troppi giri di parole questo è stato il mandato più difficile nella storia del Comune di Cantiano dal dopoguerra ad oggi, perché oltre alle emergenze che hanno toccato tutti, quindi il Covid e l'aumento dei prezzi, Cantiano ha dovuto subire tre anni di lavori sulla statale Flaminia, quindi sul principale asse di collegamento costa-entroterra, otto mesi di chiusura fisica verso l'Umbria con i lavori della Contessa e poi la devastante alluvione del settembre del 2022 che ha rischiato di compromettere le sorti e il futuro del Paese. Quindi ecco capirai come lo sforzo fisico proprio, mentale, il tempo sottratto alla professione, alla famiglia, ecco siano stati dei elementi di valutazione. Poi però come spesso capita agli amministratori prevale il senso di responsabilità. Tante cose sono state fatte, dicevo che il Paese oggi è saldamente in piedi ma tanto ancora rimane da fare. La gestione di una cosa così complessa come un'alluvione che lascia oltre 50 milioni di euro di danni, che ha coinvolto 212 abitazioni, 60 attività di impresa compromesse, non può essere abbandonata a metà strada, perché credo che i cittadini e di impresa gli vada assicurata quei ristori che è giusto che abbiano, che ripaghino degli sforzi fatti, ma soprattutto il Paese va messo in sicurezza. Noi non possiamo correre il rischio che quello che è successo possa riaccadere, quindi due grandi progettualità, una sulla mitigazione del rischio idraulico, una sul contenimento dei fronti franosi in discesa dal monte, vanno messi in cantiere. Quindi i rapporti con i ministeri, la protezione civile, la struttura regionale che abbiamo tessuto in questo anno e mezzo non possono essere abbandonati per garantire quella continuità che prima o poi, mi auguro, anzi in maniera sempre più accelerata, porti a casa i risultati sperati. Quindi garantisca a quei cittadini e agli impresi che ci hanno creduto quella serenità e quella sicurezza per guardare con fiducia ormai in maniera ottimistica un ritorno al futuro e quindi a un cantiano non solo com'era, ma meglio di com'era. E a casa cosa hanno detto? Un'altra domanda? A casa, ecco, no, ho la fortuna soprattutto a partire da mia moglie di essere compreso in questi miei ragionamenti perché, ecco, non ritorno sulla sfera privata, ma ecco, in quei giorni mi nasceva mia figlia. Ecco, però ecco, io credo che questo sforzo sia stato anche per lei. Ecco, lei sia stata una motivazione in più perché anche lei era giusto che avesse e crescesse in un paese così come ci ho cresciuto io e che non dovesse essere costretta a prendere altra strada perché il paese in cui era nato non esistesse più. E quindi, ecco, proprio per questa continuità e questa voglia che comunque… e poi Paolo, insomma, il ragionamento, se non l'avessi fatto, ne avrei avuto il rimorso perché poi, ecco, il vedere le cose come magari non sarebbero dovute andare o il non incidere… Sì, perché poi ci trattava di continuare a vivere lì. Esatto, perché non è un paese avulso dalla mia realtà. Io studiavo altrove, ho deciso di tornare a Cantiano, di investirci, di aprire un'attività professionale e quindi, ecco, io voglio che il paese in cui viva ritorni ad essere com'era, anzi meglio di com'era. E soprattutto non voglio che ci si abitui al brutto perché questa è una tendenza, una tendenza di abituarsi ormai ai problemi, di essere disfattisti oppure rassegnati di fronte a uno stato delle cose che si pensa ormai assestato, consolidato. Bisogna che noi lottiamo per chiedere e pretendere quello che ci spetta e non correre l'ennesimo rischio di vedere un film già visto, italiano, tipico, in cui di fronte all'emergenza c'è un'iniziale fase di vicinanza e di promesse e poi invece tutto cade nel dimenticatoio. Noi continueremo a fare il possibile, andando anche oltre le nostre competenze, per ridare a Cantiano quella dignità che credo si meriti anche per come ha reagito, perché non credo che dappertutto si potesse dimostrare quello che Cantiano è riuscito a fare, perché oggi girando per le vie del paese quasi sembra che l'alluvione non ci sia stata. Solo in alcune zone purtroppo è ancora evidente perché tanto è stato lo sforzo per ritornare in maniera veloce a come si era. Però ecco, proprio per questo, perché Cantiano merita di ritornare a com'era che era necessario continuare in questa difficile opera di risistemazione che riporti non solo le strutture a com'erano ma ridia serenità ai cantianesi, ridia quella serenità di vivere in sicurezza in un piccolo borgo con un'alta qualità della vita come Cantiano. Bene, torniamo ai cavalli in chiusura, ricordiamo allora per il 4 e 5 maggio l'edizione primaverile che sarebbe la seconda di Cantiano Fiera Cavalli Primavera, ma che si inserisce in un filone che è iniziato 45 anni fa con le tipiche fiere che ricordiamo all'epoca erano fiere bestiame, per cui il bestiame era per uso alimentare quasi esclusivamente, adesso invece è diventato tantissimi utilizzi, tantissimi impieghi più che utilizzi perché mi piace più pensare a degli impieghi dalla equitazione all'ipoterapia a tutto quello che ha a che fare con tutto l'intorno del vivere in un contesto naturale straordinario come quello nel quale avete la fortuna, perché alluvione a parte è una grande fortuna essere nati, vivere e portare avanti la propria vita in posti come questi che ricordiamo ai pesaresi attaccati alla riviera, sono vicinissimi, ci vuole un'oretta, un'oretta di strada anche bella perché c'è comunque del bel panorama, nel senso dei bei colori da attraversare per arrivare a Cantiano, la strada è sempre dritta, però diciamo che i colori insomma si possono seguire e vedere. Come concludiamo Alessandro con un appello, comunque qualcosa da dire ai nostri telespettatori in chiusura? È detto tutto tu, sei preparatissimo sulla fiera, io direi solo proprio in maniera così plastica di salire in sella e insomma dirigersi al galoppo verso fiera cavalli perché è un'esperienza, ecco non è una fiera ma è un'esperienza da vivere a contatto con la natura, con l'uomo, il cavallo in una simbiosi in cui recuperare quella serenità, quel momento di tranquillità che credo che faccia bene non solo al corpo ma anche all'anima. Quindi ci vediamo a Cantiano, a Chiaserna di Cantiano il prossimo 4 e 5 maggio.